Cari amici di Telea1, benvenuti ad un nuovo ennesimo appuntamento con il nostro consueto spazio di approfondimento informativo dedicato alle tematiche e problematiche che interessano il territorio della Sibaritide e in particolare della città di Corigliano Rossano. Nostra gradita ospite dell'appuntamento odierno è la dottoressa Alessandra Capalbo, che ringraziamo per la presenza e la disponibilità. Buonasera, grazie a voi. La dottoressa Capalbo è la coordinatrice del movimento civico e popolare, movimento politico ma anche culturale, rappresentato in Consiglio Comunale dal dottor Gino Promenzio. Non è nuova ai telespettatori di Telea1, anche perché più volte l'abbiamo disturbata per commentare tematiche e problematiche che riguardano il territorio. Quest'oggi lo facciamo, lo ripetiamo, grazie anche alla sua disponibilità, in maniera più approfondita, visto che siamo in un nuovo anno, pur se attraversato e ancora caratterizzato dall'emergenza pandemica, ma con più calma per appunto disquisire su quelle che sono gli argomenti all'ordine del giorno. Voglio dire innanzitutto una cosa, prima di entrare nel merito delle questioni, si può essere d'accordo o distendire a volte con le diverse posizioni politiche, però è importante avere di fronte degli interlocutori che spesso si pongono anche in maniera civile, in maniera pacata, in maniera che non travalica mai con vini personali. E questa è una delle qualità che io personalmente le riconosco, ma non penso di essere il solo, cioè quello di anche criticare, contestare, come spesso anche nel suo caso l'azione amministrativa, senza mai andare oltre, senza mai venir meno il rispetto delle persone. È una qualità e una capacità che un poco tutti dovrebbero avere e che purtroppo, ahi noi, non è così. Scindere i ruoli. Fatta questa breve parentesi, Alessandra, entriamo subito nel merito. Io vorrei partire dall'argomento di queste ore. Finalmente, diciamo, perché era attesa da tanto tempo, anche sollecitata da me con un articolo sul blog, il sindaco di Corigliano Rossano, Ingegnere Stassi, ha firmato un'ordinanza che vieta gli assembramenti, l'utilizzo di parchi, ville comunali, una sorta di mini lockdown, così possiamo definirlo fino al 15 febbraio, per tentare di arginare questa emergenza pandemica che sembra interessare Corigliano Rossano e in particolare l'area urbana coriglianese. Un suo giudizio in merito. Sì, allora innanzitutto ti ringrazio per la parentesi iniziale che hai fatto e ci tengo a sottolineare il fatto che per me è fondamentale avere il rispetto di tutto, soprattutto delle parti, soprattutto delle istituzioni. Quindi quando si solleva una critica si solleva sempre in maniera costruttiva e mai per attaccare sul personale l'avversario, in questo caso il sindaco e la sua maggioranza. Quindi i miei, che poi io diciamo do voce al mio movimento e a tutti i cittadini che sollecitano Civico e Popolare e Gino Promenzio a fare di più e meglio. Quindi non vogliono mai essere polemiche, non vogliono mai essere soprattutto come sono state chiamate polemiche sterili né attacchi personali. Cosa che spesso capita e io stessa in prima persona ne ho subito purtroppo la cattiveria. Detto ciò, passiamo al tema delle ultime ore. Sì, finalmente un'ordinanza. Purtroppo, ecco, io penso che questa pandemia sta provando veramente un po' tutti a livello, diciamo proprio generale, insomma, il mondo intero. Quindi non è nello specifico il caso purtroppo della nostra città. Una pandemia che ha scosso gli animi, che sta purtroppo rimodulando quotidianamente il nostro vivere, la nostra normalità. Io penso che al di là di ogni ordinanza ci vorrebbe, e qui faccio proprio un mio appello personale, un minimo di senso civico in più. Cioè, ognuno di noi, e qui non ci sono sindaci, non ci sono presidenti di regione, non ci sono presidenti del Consiglio, che possano insegnarci a, diciamo, tutelare la nostra salute personale. Un po' di buon senso. Il buon senso. Secondo me, ecco, il buon senso è il vaccino migliore per debellare questo virus. Ci hanno detto che è l'arma migliore il distanziamento sociale. Quindi cerchiamo di metterci il nostro senza cercare la scappatoia solita per fare in modo che questo virus è così argini e finalmente questa curva di contagi cali. Perché veramente abbiamo bisogno di quella socialità che ci è stata negata, nostro malgrado. Quindi io credo che, ecco, gli amministratori poi fanno il loro possibile per cercare di contenere. Ecco, forse vedo, visto insomma sulla stampa, che ci sono state un po' di dimostranze nei confronti di questa ultima nota del Sindaco. Credo che la chiusura delle piazze fosse necessaria già da tempo. Poi abbiamo visto delle immagini terrificanti delle feste, questi giovani senza freno. Ecco, nel senso che ovviamente è una voglia naturale quella di riprendere i contatti con il prossimo. Non ne faccio una colpa ai giovani, non ne faccio una colpa ai meno giovani, ai genitori, eccetera. Ci vuole buon senso, buon senso da parte di tutti quanti, amministratori, ma soprattutto da parte di ognuno di noi. Uno sforzo in più, ecco, questo è un mio appello personale a tutti. Al quale naturalmente non possiamo che unirci e condividere. Alessandra, lei è professionalmente impegnata, al di là del suo impegno civile, politico, nel campo da sempre dei beni culturali. Quindi diciamo c'è questa accezione, questa sensibilità. È intervenuta anche di recente sul ormai controverso tema che divide e spacca la popolazione. Noi siamo invasi da richieste di genitori discordanti fra di loro, didattica a distanza, didattica in presenza. Gradiremo, ecco, sapere e conoscere non soltanto la sua posizione in merito, ma anche un altro aspetto che reputo non distante e non, appunto, difforme dall'aspetto della scuola in senso stretto. In tanti accusano questa amministrazione comunale, al di là dell'emergenza pandemica, di scarsa anche sensibilità e dinamismo culturale. Sembra che la città si sia appiattita. Vi siano poche iniziative, ripetiamo, questo al di là dell'emergenza pandemica, perché l'emergenza pandemica riguarda tutte le amministrazioni comunali, come facevi poco, anzi, riferimento a un problema mondiale. Che comunque c'è uno scarso dinamismo e questo magari delude in tanti che si aspettavano invece un qualcosa di più, soprattutto di fronte ad una classe dirigente nuova, di fronte soprattutto alla prima amministrazione della città unica. Quindi scuola e cultura, sappiamo essere temi a lei cari. Sì, sono temi a me cari. Quindi ovviamente si prova rammarico perché noi viviamo in quella che fu la culla della cultura. Quando si insedia un'amministrazione costituita da persone qualificate, anche a livello di studi, un'amministrazione che comunque aveva lasciato intendere di voler fare tanto, di avere già in mente una città improntata proprio a questo dinamismo a cui tu facevi riferimento, dicevo si prova rammarico nel vedere poi che invece questi progetti, ma così come tutta la visione di città, fatica a venire fuori. Diciamo che ultimamente quando si cerca di interloquire con la maggioranza su qualunque tema, compreso quello culturale, l'alibi per la non-azione è diventato il Covid. Però il Covid è una storia recente, come dicevi tu. Si poteva fare sicuramente di più, ovviamente io qui posso sembrare di parte perché quando si è all'opposizione, ovviamente quello che si ha dentro, la propria visione, si reputa migliore di quella dell'antagonista perché se no non ci si metterebbe dall'altro lato. Però ecco, anche se c'è così da una lettura veloce di quelle che furono le linee presentate anche in ritardo dall'amministrazione in tema di cultura e di marketing di questo territorio, diciamo che non ho visto nessuna novità, non ho visto nessuno spunto di riflessione ulteriore per far emergere ciò che il nostro territorio può dare. Diciamo che sempre, io sono stata assessore al turismo e al marketing culturale e spesso anche ai tuoi microfoni ho avuto modo di dire che un assessore al turismo qui, per come è adesso la città, per come era quando io facevo l'assessore, è impossibilitato, era impossibilitato a fare del marketing. Perché? Perché il territorio non è spendibile così com'è, ovviamente lo si deve rendere tale. E come si fa? Si fa con un lavoro sinergico, sia all'interno proprio della macchina comunale, quindi con gli uffici innanzitutto, perché la politica passa, ma sono loro che curano i progetti da un punto di vista burocratico e da un punto di vista di leggi. Quindi coloro che attuano di fatto i progetti, che vediamo realizzarsi anche negli ultimi giorni, e a cui va il mio applauso e il mio ringraziamento fondamentale, sono ovviamente i dirigenti e il personale comunale. E poi sinergia con gli altri assessori, ma soprattutto al di fuori anche dell'area comunale. Io da assessore ho avuto l'importante delega alla presidenza del PIT. Il PIT non è niente che è un nome convenzionale, che richiamava il vecchio patto integrato territoriale, che sta ad indicare, che era stato adottato per indicare un'area vasta, tutta, diciamo, racchiude bene o male quasi tutta la fascia ionica fino a Cariati, e che cominciava, diciamo, a muoversi unitamente verso l'intercettare di finanziamenti importanti, soprattutto in concomitanza e in stretta sinergia con il MIBACT, per far rifiorire il turismo dalle nostre parti, cioè per veicolare il turismo verso quelle che sono le nostre eccellenze. Questo discorso da me avviato e portato avanti, che ci siano stati dei meriti o dei demeriti, non sono qui per fare, diciamo, la presuntuosa, però poteva essere continuato dal sindaco Stasi e dalla sua maggioranza, invece vedo che di quei progetti non se ne è parlato più. Io credo che, ecco, per un'amministrazione lungimirante ci voglia ormai un discorso di arie vaste. Corigliano Rossano ha le sue eccellenze, ricordiamo che siamo, comunque abbiamo un castello ducale bellissimo, un monumento che ci invidiano nel mondo, abbiamo il Codex, abbiamo dei riferimenti chiari di quella civiltà greca e romana che ci ha preceduto e che ci portiamo proprio nel DNA. Però queste cose isolate, i santuari, cioè tante cose, ti potrei fare un elenco di cose che ci potrebbero fare entrare in circuiti che porterebbero qui il passaggio di numerosi turismi, perché poi adesso c'è questa tendenza a differenziare, ovviamente, il turismo. Questo discorso non lo si può fare, però rimanendo nell'Interland comunale. Bisogna, diciamo, ampliare un po' le vedute. Mi piacerebbe capire, ecco, come l'amministrazione vuole da qui al prossimo futuro veicolare questi processi, perché finora, dico da qui al futuro, perché finora abbiamo visto veramente poco, al di là del solito cartellone estivo, che poi è sempre una copia conforme degli anni precedenti. Sinceramente, ecco, io, e anche qui devo essere critica, non ho visto una novità, non ho visto nessuno slancio maggiore o migliore rispetto al passato. Quindi non ho visto ciò che mi aspettavo di vedere avendo sentito, diciamo, le promesse dai palchi. Dottoressa Capalbo, lei in questo excursus breve ma molto efficace ha ripercorso e affrontato tanti aspetti salienti, ma soprattutto la necessità, come lei diceva Pocanzi, di uscire dagli angusti con vini locali, municipalistici, e abbracciare una visione d'insieme che ad oggi sembra non vedersi. Si è parlato di scuola e di cultura, si è parlato di centri storici, si è parlato di turismo. Lei chiede appunto di fare, anche se naturalmente ben conosciamo la sua posizione, ma argomentandola sempre meglio, anche come sia a livello personale che al nome del movimento che lei rappresenta, che è un movimento, dicevamo, non soltanto presente in Consiglio Comunale, ma radicato tra la gente perché si fa portavoce di quelli che sono i disagi e spesso anche il diffuso malessere che si registra su ambi aspetti in larghi strati della popolazione. Le cito tre nomi di assessori e tre deleghe. Naturalmente ne parliamo sempre, come abbiamo detto, dal punto di vista squisitamente politico. Assessore Caudillo per quanto riguarda il turismo, Assessore Turano per quanto riguarda la deleghe ai centri storici. Io le apro una parentesi. Mi sono permesso di fare un articolo lo scorso anno perché non avevo notizia sui centri storici e ricevevo tanti comunicati perché purtroppo tanta gente non conosce il nome degli assessori. E questo è un vatto grave. Io ne ho parlato anche con lo stesso sindaco e spero che vengano divulgati il più possibile i nomi e le attività degli assessori perché evidentemente è un problema di scarsa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. Terzo nome, l'assessore Novello, perché praticamente è responsabile della delega allo sviluppo delle zone montane e delle località costiere. Quindi argomenti correlati fra loro. Turismo, centri storici, mare e montagna. Io non so se lei ha visto interventi a favore del mare, della montagna o i centri storici perché noi continuiamo a ricevere quotidianamente oltre che realizziamo servizi non soltanto lo status quo ma un peggioramento in molte zone delle più elementari condizioni di vivibilità tant'è che spesso ricorrono a noi anche per piccoli problemi di manutenzione ordinaria quindi nessuno chiede voli pintarici ma quantomeno, visto che siamo la terza città della Calabria. Ecco, questi tre assessorati chiave che poi penso che siano correlati fra di loro. Sì, allora, innanzitutto dicevi bene il Movimento Civico e Popolare è un movimento che al di là della posizione in Consiglio Comunale nasce tra la gente infatti è nato ancora prima della campagna elettorale per poi la candidatura a sindaco di Gino Promenzio ed è nato proprio in vista di una per dare un proprio contributo fattivo quindi fatto di persone, di cittadini normali un proprio contributo fattivo a questo lancio di questa città nuova e unita. Ovviamente poi in seno alla campagna elettorale Gino Promenzio ha presentato con Civico e Popolare un progetto, una visione di città scritto da appunto questi cittadini che lo costituiscono è un progetto scritto a più mano che tiene conto di tutte le criticità delle varie aree cominciando dalle periferie delle due aree urbane fino a spostarci al centro quindi comunque il nostro progetto era chiamato proprio la città a misura di bambino ovviamente dall'altra parte siamo stati anche un po' derisi perché è una favola un sogno utopico ma io dico perché? Cioè oggi ci riteniamo così tanto brutti che pensare ad una città a misura di bambino quindi una cosa pulita senza pericoli una città a misura di bambino che cos'è? Una città dove il bambino può vivere la sua giornata liberamente senza correre i pericoli che oggi sappiamo e quindi essendo libero lui di viversi le sue giornate i suoi momenti si sentono anche liberi e tranquilli gli adulti quindi è una città a misura di tutti poi alla fine quindi un po' derisi perché evidentemente sappiamo che siamo diventati nel tempo così tanto brutti che questo progetto forse per alcuni era inattuabile noi ancora ci crediamo anzi lo abbiamo anche messo a servizio dell'attuale maggioranza perché non ne facciamo mistero e lì se ne vogliono usufruire insomma abbiamo un capogruppo in consiglio comunale possono coinvolgerlo nei progetti e sicuramente avranno una grande mano perché civico e popolare è lì per costruire la città e non per fare polemiche sterili e questo ci tengo a sottolinearlo sempre le polemiche nascono proprio come dicevi tu dall'analisi della città cioè basta farsi un giro basta camminare basta andare in un negozio sono le criticità che saltano proprio agli occhi cioè qui sta mancando proprio anche l'ordinaria amministrazione i cittadini ovviamente si rapportano continuamente con noi attraverso ogni tipo di canale e ovviamente ti dicono ma a chi ci dobbiamo rivolgere quindi diciamo che la prima cosa che tu hai fatto notare prima i tre nomi degli assessori o i nomi degli assessori che non si conoscono purtroppo è una cosa che ci chiedono spesso tutti conoscono il sindaco quindi questo da una parte favorisce forse perché è troppo carismatico lui e quindi è una nota di merito sicuramente al sindaco Stasi o potrebbe essere letta come una nota di demerito degli assessori che non hanno fatto tanto da mettersi diciamo in mostra turismo l'assessore al turismo una persona sicuramente con dei titoli importanti che però cioè finora forse perché ancora non ha avuto tempo di carburare per tutte queste cose poi che sono successe al di là della preparazione del cartellone estivo abbiamo visto dei titoli importanti di stampa con degli incontri importanti fatti con l'università questi piani del turismo però poi non abbiamo visto il concretizzarsi di fatto cioè questo piano del turismo non ci sono poi tradotti in realtà sì non ci sono non ci sono stati comunicati non sono pervenuti né tantomeno attuati perché sicuramente nell'estate che è appena trascorsa non abbiamo visto niente di nuovo l'impegno di un'ingente somma per un'estate che di fatto almeno che io non ho vissuto in un'altra dimensione non è stata diciamo vissuta come potevamo ma questo diciamo non è colpa né dell'assessore né di nessuno la pandemia però i soldi sono stati spesi quindi ecco diciamo che forse dovremmo un attimino avere contezza vorremmo avere contezza da parte di questo assessorato su quello che è stato fatto su quello che è stato prodotto anche alla luce di questi incontri importanti ecco questi sono i tavoli che dicevo no servono perché fanno crescere le vedute e fanno sì che si possano realizzare dei progetti importanti per la città sarebbe giusto conoscere ecco quando potremmo vedere l'attuazione di questo piano del turismo i centri storici non possono cioè sono tre cose che è messo sul tavolo che non sicuramente non li scindol l'una dall'altra nel senso che il turismo e quindi diciamo la promozione del territorio ovviamente passa attraverso questi tre canali fondamentali il mare la costa la montagna i centri storici ad oggi anche lì non abbiamo la contezza di nulla di fatto eppure sono stati comunque realizzati e finanziati dei progetti importanti lasciati da le passate amministrazioni ad esempio l'agenda urbana l'agenda urbana è stato il primo grande progetto a cui la città di Corigliano Rossano ha lavorato per la prima volta con le due all'epoca giunte dei due comuni estinti insieme cioè le due giunte collaborarono alla realizzazione di questo progetto che ottenne poi il finanziamento e che oggi dovrebbe essere già diciamo tangibile in cantiere tangibile sì ecco e quello avrebbe portato un grandissimo sviluppo dei due centri storici aspettiamo fiduciosi e un'ultima domanda Alessandra alla luce di quando lei ci raccontava poc'anzi abbiamo parlato di qualche assessorato naturalmente conosciamo ambiamente oltre che lei ce l'ha ribadito la posizione ambiamente negativa su questi ormai quasi prossimi due anni di amministrazione stasi appunto che avremmo attorno appunto alla prossima primavera la prossima estate un'ultima domanda legata appunto proprio all'amministrazione si parlava di un deficit di comunicazione istituzionale si parlava appunto degli assessori quindi anche di questo ruolo ecco forse un po' troppo da centratore del sindaco o comunque l'incapacità o la scarsa capacità degli assessori di far conoscere la propria attività ultima domanda afferente proprio il ruolo del sindaco io stesso ne ho fatto anche menzione ne ho parlato anche con lo stesso primo cittadino è normale che un sindaco sia titolare di numerose deleghe che spaziano dalla sanità alla manutenzione rivolgo questa domanda perché spesso noi quotidianamente ci troviamo ad affrontare a rispondere alle chiamate dei cittadini inerenti la buca la fogna che talvolta poi vengono affrontate dall'amministrazione comunale non c'è un assessore di riferimento alla manutenzione in una città di 80 mila abitanti e questa delega convive assieme alla delega all'ambiente alla delega alla sanità a tante deleghe che sono in capo al primo cittadino questo non è un vattore che contribuisce certamente ad alimentare il malcontento perché non si riesce a dare risposte per quanto se ne vogliono dare c'è la massima volontà alla cittadinanza e soprattutto anche a sminuire l'uno degli assessori assolutamente sì assolutamente sì perché io penso che inizio dall'ultima domanda perché poi me ne fatte tantissime assieme tutte diciamo di fondamentale vitale importanza quindi alle quali non sicuramente meriti e meritano i cittadini una risposta per quanto io ne possa dare ecco in un territorio problematico come il nostro in aree segnate da criticità gravi la manutenzione è ovviamente all'ordine del giorno le buche le rotture la penuria d'acqua quindi diciamo che il ruolo dell'assessore alla manutenzione credo che sia all'interno della macchina comunale all'interno di un'amministrazione e quindi della sua giunta abbia un'importanza che diventa fondamentale e imprescindibile il cittadino cioè la giunta cos'è poi è un insieme di persone che si mettono a servizio del territorio e che dovrebbero fare da tramite con il sindaco quindi il braccio operativo poi di fatto di quella che è dell'amministrazione un sindaco è già operato da tremila difficoltà tremila responsabilità per cui io credo che sia troppo gravoso per un sindaco mantenere deleghe così cioè che richiedono proprio un impegno costante sul territorio perché l'assessore alla manutenzione non è un assessore che fa ufficio o riceve la gente nel suo ufficio cioè l'assessore alla manutenzione è una persona che deve girare come una trottola per tutto il territorio deve correre da un lato ad un altro e deve essere pronto all'occorrenza a rispondere ai cittadini per cui io non so come faccia il sindaco c'è tanto di cappello veramente perché oltre a fare il sindaco quindi le varie incombenze istituzionali che ha un sindaco riesce anche ad occuparsi di questa cosa e qui veniamo diciamo all'altra criticità riesce poi a farlo bene quindi diciamo forse tutte queste carenze che notiamo nel territorio forse dipendono dalla sua impossibilità ad occuparsene in prima persona quindi in quella rimodulazione di giunta che ha fatto poco tempo fa io dal mio piccolo insomma forse ecco avrei preferito che desse una di queste due deleghe importanti che ha preferito mantenere ossia l'ambiente e la manutenzione perché sono due deleghe che impegnano veramente H24 la persona che poi la fa propria per cui anche per la sua salute mentale credo che dovrebbe riflettere un po' sul da farsi proprio per il bene della città e allora c'è tanto da fare tante sono le criticità ma per quanto sono argomenti diciamo problematici perché appunto afferiscono le tante cose che non vanno sul nostro territorio e comunque sembra un piacere parlarne con lei allora guarda Fabio innanzitutto ti ringrazio ti do del tu perché insomma ormai si è instaurata una bellissima amicizia sei comunque rappresenti ecco tutto ciò che c'è di positivo nella nella stampa sei un cronista oggettivo e questo non è non è da grazie insomma da sottovalutare io sono sempre pronta a rispondere ripeto oggettivamente criticamente se c'è da da criticare perché il cittadino merita cioè per la prima volta diciamo nella storia forse i cittadini di questa città che poi è sperimentale si aspettavano c'è stata anche una partecipazione attiva alle elezioni se ce lo ricordiamo tutti perché si aspettavano un'amministrazione diversa un'amministrazione che tenesse conto così come si era detto sui palchi delle delle tante criticità tenesse conto di questo progetto nuovo di città che al momento purtroppo non non si vede stenta a decollare e e si sentono addirittura per la prima volta dicevo più rappresentati dalle opposizioni che dal sindaco stesso quindi c'è questo continuo rivolgersi a noi questo quasi quando ci sono i consigli comunali insomma la gente fa quasi il tifo da stadio perché si possa andare contro il sindaco è una situazione che dovrebbe fare riflettere un po' la maggioranza soprattutto dovrebbe portarli a riflettere sulle critiche che vengono mosse loro quindi non rispondere necessariamente col tono polemico e acido ma soffermarsi su quella critica e magari dimostrare con i fatti cioè smentire con i fatti la polemica che l'opposizione fa perché ovviamente la polemica poi nasce da un dato oggettivo la città la sporcizia le buche una città come dicevi tu all'inizio la terza città della Calabria ha bisogno di segni visibili e al momento di questi segni noi non ne stiamo vedendo quindi credo ecco un altro appello che rivolgo ma stavolta alla maggioranza è quello di andare oltre la propaganda è il momento di mettersi a lavorare abbiamo forse perso un po' di tempo all'inizio restano tre anni io credo che in tre anni qualche progetto lo si possa avviare soprattutto quelli già avviati possano essere seguiti in prima persona non imposti dall'altro e subiti la città merita di avviare quel processo che la porta veramente a diventare la terza città della Calabria quindi veicolare quelli che sono poi gli organi vitali di questa città e allora con questo accorato invito alla riflessione e ad abbandonare l'autoreferenzialità soprattutto l'autoreferenzialità per questo vagheggiato ritorno alla normalità ecco quindi alla cultura del diritto da parte dei cittadini che abbiamo sentito anche in campagna elettorale noi per adesso ci congediamo ringraziamo tanto davvero tanto la dottoressa Capalbo coordinatrice del movimento civico e popolare per questa chiacchierata torneremo a ridisturbarla nuovamente per approfondire tematiche e problematiche locali ma non solo anche per disquisire su iniziative socioculturali che la vedono non da oggi impegnate in prima persona e non solo sul territorio di Corigliano in virtù appunto della sua professione nel campo proprio dei beni culturali per me sarà sempre un piacere grazie alla dottoressa Capalbo e grazie a tutti voi per averci seguito grazie grazie a tutti